La caduta delle quotazioni del greggio e la pandemia causano ingenti perdite alle compagnie petrolifere. I dati del primo trimestre mostrano profitti in caduta libera per tutti i principali attori globali, con saldi negativi compresi tra il meno 28% di Repsol e il meno 99% di Total in rapporto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nonostante i risultati negativi, alcune compagnie come Total e BP confermano i dividendi previsti, mentre altre come Shell li tagliano per due terzi. Una analoga decisione è attesa da Eni che venerdì ha pubblicato i dati rinviando la scelta sui dividendi al secondo trimestre. In un settore segnato dalla contrazione, tutte le compagnie annunciano tagli di spese di personale e il disimpegno da settori considerati non profittevoli come lo scisto. In conseguenza di ciò negli USA si stima che centinaia di società legate all'esplorazione e alla produzione dichiareranno fallimento entro il 2021. una analoga decisione di un'analoga decisione è a la base di un'analoga decisione che attesa da Eni che venerdì ha pubblicato i dati rinviando la scelta su dividendi al secondo trimestre. In un settore segnato dalla contrazione, tutte le compagnie annunciano tagli di spese di personale e il disimpegno da settori considerati non profittevoli come lo scisto. In conseguenza di ciò, negli USA si stima che centinaia di società legate all'esplorazione e alla produzione dichiareranno fallimento entro il 2021.